Ben trovati al TG6 L'Aquila, oggi apriamo parlando di Gran Sasso perché la Leitner eseguirà i lavori alla seggiovia Le Fontari. Sono state aperte infatti le buste che hanno indicato nell'azienda Leitner, colei che eseguirà i lavori della seggiovia Le Fontari. Sarà ristrutturato anche lo storico albergo di Campo Imperatore, verranno sistemati i valloni e per ora altri interventi in attesa dei lavori veri e propri alla seggiovia Il Servizio. Sarà la ditta Leitner ad eseguire lavori sulla seggiovia delle Fontari nella stazione sciistica di Campo Imperatore. L'apertura delle buste ha portato a questo risultato. Ora ovviamente ci sarà da predisporre il nuovo progetto che dovrà tener conto delle disposizioni della Commissione via Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, che a dicembre, come sapete, ha imposto delle modifiche accogliendo le obiezioni degli ambientalisti. Secondo la proposta iniziale, infatti, c'era una modifica nell'attuale tracciato e l'impianto sarebbe dovuto sorgere più a valle. Salvo quindi a fine 2015 il contributo FAS per realizzare l'opera, un risultato molto importante secondo il sindaco Massimo Cialente. Sui fondi previsti per il rilancio del centro turistico c'è stata una rimodulazione, 7 milioni destinati alle Fontari. Per ora, come primo intervento, ci sarà la ristrutturazione dell'albergo di Campo Imperatore e poi anche la sistemazione dei valloni e lo snow park, prima di provvedere poi ai lavori sulle Fontari, che inizieranno nei primi mesi del 2016. Il Comune dell'Aquila ha sottoscritto con l'azienda Corfenix il preliminare di vendita del modulo 1 dello stabilimento Exital, tali località Campo di Pile, all'Aquila. Entro le prossime settimane verranno perfezionati tutti gli atti che permetteranno ad Accorfenix di partire immediatamente con i lavori, arrivare rapidamente all'apertura dello stabilimento con le assunzioni che a pieno regime porteranno al riassorbimento di tutti i lavoratori dell'ex polo elettronico. Dopo i ritardi e continui rinvii all'avviso esplorativo pubblicato dal Comune per la cessione dei capannoni, ricordiamo acquisto dei capannoni condizione posta da Invitalia, ha risposto solo la Corfenix, come ricorderete, lo scorso 11 novembre, con una proposta da 1,7 milioni di euro. La società è costituita al 90% da un ex banchiere indiano, può ora insediarsi in questa porzione di stabilimento Exital, tali un'attività che avrebbe dovuto iniziare già nel 2014. Parliamo di autostrade. Gli anni che arrivano si aprono sempre con gli aumenti, con i rincari, i cittadini abruzzesi fanno i conti con gli aumenti dei pedaggi autostradali. Giovedì prossimo intanto la concessionaria strada dei parchi fornirà tutti i chiarimenti. Diverse però le reazioni politiche. Sentiamo. Aumenti i record in Abruzzo per il pedaggio autostradale su A24 e A25. Scoppia la polemica sull'autostrada dei parchi del gruppo Toto, che ormai da anni fissa al 1 gennaio il rincaro. Da un lato la preoccupazione dei pendolari, e dall'altra le contestazioni da parte di chi dice che il governatore D'Alfonso avrebbe potuto agire in tempo per evitarlo. Il presidente della regione è anche un dirigente dell'ANAS, quindi un esperto della materia. Non so se anche all'ANAS abbia fatto le stesse cose. Comunque D'Alfonso doveva attivarsi per tempo e non essere tallonato dall'opposizione di centro-destra per un intervento rispetto al rincaro delle tariffe. Perché queste cose D'Alfonso le conosce come le sue tasche e quindi avrebbe dovuto fare un'azione che non c'è stata. Il presidente è ovunque, ma quando serve non c'è. Insomma la politica è al servizio di questi concessionari. In Abruzzo poi in particolare arriviamo il top, perché abbiamo l'attuale presidente, che è in sede processuale per difendersi rispetto alle elargizioni di vario tipo, denaro, viaggi, eccetera, che riceveva regali, che riceveva da Toto, si è difeso dicendo che lui era il damo di compagnia ed era di famiglia. Quindi c'è un conflitto di interesse enorme. Quasi 20 euro per la tratta Chieti-Roma, 185 chilometri in tutto. E intanto la società Toto S.p.a. giustifica il rincaro adducendo una tassazione al 57% e un 43% destinato invece al mantenimento dei servizi. Innanzitutto noi non dimentichiamo mai che l'autostrada è stata finanziata dallo Stato, quindi dai cittadini e dalla Fiscalità Generale. Come per altre autostrade, poi a un certo punto sono intervenuti i privati che hanno delle concessioni. Ora queste concessioni però non possono significare che l'infrastruttura va in degrado, non c'è un'adeguata manutenzione e i profitti vengono incamerati dai privati. Ora questo non vuol dire da parte mia ignorare i problemi che ci sono. Per carità stiamo parlando di un'autostrada di montagna, di un'autostrada che ha un bisogno particolare di cura e di manutenzione. Però non può essere fatto sempre e solo a carico dei cittadini. e degli autotrasportatori e degli utenti che a volte utilizzano l'autostrada solo per andare a lavorare. Apriamo ora la pagina dedicata alla cronaca. Un arresto per droga nell'ultimo dell'anno. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un uomo di 49 anni di paganica perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Un grande lavoro nell'ultima notte dell'anno anche per gli operatori del pronto soccorso dell'Aquila. Sentiamo. Fine dell'anno di lavoro per gli agenti della questura dell'Aquila che hanno arrestato un 49enne di paganica per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di un etto di cocaina e 55 grammi di sostanza da taglio. L'arresto è avvenuto in seguito a un posto di blocco effettuato dagli uomini della squadra mobile nei pressi del casello della 24 dell'Aquila Ovest. La perquisizione personale operata nei confronti del 49enne ha dato esito negativo mentre quella effettuata sulla vettura a una Fiat Grande Punto ha permesso all'uomo in indivisa di trovare ben nascosti sotto il vano portoggetti del lato passeggero due involucri di cello fan trasparente contenenti uno 100 grammi circa lordi di cocaina e l'altro 55 grammi circa di sostanza da taglio insieme a un bilancino di precisione. L'uomo è stato messo ai domiciliari su disposizione del GIP Guendalina Buccella a seguito di convalida chiesa dal magistrato di turno la dottoressa Picardi. Ultimo dell'anno di lavoro come ogni anno anche per il pronto soccorso dell'Aquila che ha registrato diversi malori a causa dell'abuso di alcol. Per un ragazzo in particolare è stato necessario l'intervento del 118 con l'ambulanza e il giovane si trovava in piazza Duomo per festeggiare con gli amici l'arrivo del nuovo anno. Oltre a questo intervento diversi sono stati effettuati direttamente al nosocomio aquilano sempre per lo stesso motivo. Il calcio sono giorni importanti per l'Aquila Calcio in vista dell'apertura ufficiale del mercato. Il direttore sportivo Alessandro Battisti attende una risposta dal difensore ex pescare Emanuele Pesoli intanto alla committiva Rosso Blu si è aggregato anche un portiere la società lo sta valutando. Germana Dorazio Tiene banco il mercato in casa dell'Aquila Calcio in questi giorni, prima di lunedì è attesa la risposta del difensore Emanuele Pesoli che si è preso qualche giorno per decidere. Il direttore sportivo Alessandro Battisti resta alla finestra. Noi ci siamo dati come indicativamente prima della riapertura delle liste quindi prima di lunedì io mi auguro che tra oggi e domani ci possa essere una risposta a prescindere da quella che possa essere ognuno poi dopo vedrà insomma. Io mi auguro che possa essere il giocatore che sposi il nostro progetto altrimenti andremo per altre direzioni. La squadra anche ieri, primo dell'anno ha sostenuto una seduta di allenamento. Si è aggregato il portiere Francesco Scotti classe 83 che il DS sta valutando. Il portiere Francesco Scotti è un ragazzo che è un ragazzo non più tanto ragazzo 83 che ha una buona esperienza di Liga Pro è maturata fondamentalmente in Romagna anche se lui è romano è origine nel settore giovane della Lazio. Vediamo, noi stiamo valutando per alcune situazioni fondamentalmente anche per valutare un po' la riapertura del campionato dove abbiamo Sandrini squalificato e Savelloni con un infortunio e noi la società sa che è quella per noi una partita importantissima quindi stiamo valutando anche per quella situazione lì e poi fondamentalmente noi non avendo il terzo portiere potrebbe anche essere una situazione abbiamo Mattias e Funari che in prospettiva ha un ottimo profilo però potremmo anche pensare e valutare le ipotesi di tesserarne. Resta in prova anche l'esterno ex salernitana Cristian Chirieletti. Il presidente Conrado Chiodi ha dichiarato che la società Rosso Blu è disposta a sborsare 100.000 euro per il mercato così il direttore sportivo Alessandro Battisti. L'unerdì mattina avremo sicuramente un incontro dove valuteremo la situazione in generale e complessivo noi intanto ci stiamo muovendo perché è importante potersi muovere con anticipo però l'unerdì mattina sicuramente con il presidente ci metteremo seduti e farremo il punto della situazione. La Camera di Commercio dell'Aquila rende noto che le prove scritte degli esami di abilitazione all'attività di agente d'affari in mediazione se agente A, agenti immobiliari in sezione C, agenti con mandato a titolo oneroso sono state fissate per i giorni 4 e 5 febbraio con la prima e la seconda prova scritta. La modulistica è disponibile anche presso le sede camerali e sul sito www.caq.it. Le domande di ammissione all'esame dovranno essere presentate entro il termine del 13 gennaio 2016. L'elenco dei candidati ammessi luogo e l'orario di svolgimento delle prove scritte all'esame sarà pubblicato all'albocamerale online all'indirizzo www.caq.it. Questa pubblicazione avrà valore di notifica per la convocazione dei candidati ammessi all'esame scritto. È tutto, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi invito a rimanere su TV6 per la nostra consueta programmazione. Arrivederci!